millimetri di pioggia caduti in un determinato territorio. Allora, lo Stato italiano rischia di scommettere sui millimetri di pioggia che potrebbero cadere su una città che verrà distrutta dai millimetri di pioggia, cioè dovrà godere dalla distruzione di una propria città. Si arriverà a questo, Presidente. Se non si cambia, si arriverà a questo. E voi ancora, Presidente, Ministro, Governo, ancora avete la possibilità di cambiare. Potete cambiare. Ve lo chiediamo con forza. Grazie. Grazie. Passiamo ora all'interpellanza urgente numero 2904 degli onorevoli Ventricelli ed altri concernenti iniziative volte a potenziare il presidio delle forze dell'ordine nella provincia di Bari, anche alla luce del recente grave episodio criminoso verificatosi ad Altamura. L'onorevoli Ventricelli la illustra. Prego. Grazie, Presidente. Colleghi, Viceministro, lo scorso 4 marzo ad Altamura, città più grande della provincia di Bari, come lei ben sa, dopo il capoluogo, intorno alla mezzanotte è espluso un ordigno in una sala giochi chiamata Green Table, ferendo in modo grave otto ragazzi di età compresa tra i 22 e i 26 anni. Uno dei ragazzi è tuttora ricoverato dopo un intervento per l'asportazione di schegge di ferro dal cranio e lotta tra la vita e la morte. Un altro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre schegge dalla milza. Un terzo ragazzo ha riportato una contusione polmonare con una prognosi di 30 giorni. La quarta vittima dell'attentato recava schegge nel braccio e a livello osseo e è stato operato e ha anche la sua prognosi di 30 giorni. La quinta ha riportato una frattura scomposta e frammentata dalla mendibola, con una vasta ferita a livello della guancia. Nonostante le indagini, non si conoscono ancora le esatte dinamiche degli accadimenti e i moventi del vileatto. Questo, però, Viceministro, è solo il più eclatante, ma non l'ultimo tra gli episodi criminali che stanno paralizzando la comunità altamurana. Esausta rispetto al clima di terrore che si è ormai generato. Riassumendole quello che sta accadendo negli ultimi mesi, le riporto i dati che abbiamo raccolto anche grazie alla stampa locale. Decine di furti in aziende del territorio, in particolare rame e automezzi. Una trentina di rapine, stazioni carburanti, istituti bancari e supermercati. Due nella sola giornata di sabato scorso e l'ultima ieri sera. Esplosione di tre bombe carta all'esterno di abitazioni ed esercizi commerciali. Tre incendi ai danni di auto. Scritte intimidatorie a giornalisti locali. Arresti per detenzioni di armi e droga. Inoltre, dall'uccisione del boss Bartolo D'Ambrosio, avvenuta nel 6 settembre 2010, si sono susseguiti casi legati alla malavita e alle faide locali. In particolare, un'agguata al fratello del boss, ucciso alle ore 15 in pieno centro. Un omicidio di un 29enne sorvegliato speciale nella sua abitazione. Una sparatoria all'ingresso dell'ospedale alle 9.30, in cui è stato ferito un cinquantenne. E tutto questo, ovviamente segnalato ampiamente già denunciato ai miei precedenti atti. Mi rivolgo quindi a Levice, Ministro, perché la situazione appare non più governabile. Non possiamo consentire che la paura dei cittadini prenda il sopravvento. Da rappresentante istituzionale abbiamo il dovere di non girare la testa e occuparci in prima persona di un'emergenza straordinaria che sta attanagliando il nostro territorio. Pertanto sono a chiederle quali siano le informazioni in possesso del Ministero su tutte le vicende che ho esposto nella mia interpellanza e per sollecitare un potenziamento immediato e non più rinviabile delle forze dell'ordine. Insufficienza di organico condiziona pesantemente il contrasto ai fenomeni elencati che sono di maggior diffusione. Inoltre la mancanza di unità non permette di presidiare efficacemente tutto il territorio altamurano che, voglio ricordare, è il tredicesimo Comune in Italia per estensione con oltre 70.000 abitanti. Grazie. La ringrazio. A questo punto il Vice Ministro degli Interni, Filippo Bubbico, ha facoltà di rispondere. Prego. Sì, grazie, signor Presidente. Il tema è evidenziato dall'onorevole Ventricelli e da altri onorevoli interroganti, quello cioè della sicurezza pubblica nel Comune di Altamura e più in generale nella provincia di Bari, teatro negli ultimi due anni di una serie di episodi criminosi, è oggetto della massima attenzione della Prefettura di Bari e delle forze di polizia, in quanto l'area murgiana risulta effettivamente connotata dalla presenza di varie organizzazioni criminali. In particolare, come già evidenziato da varie inchieste giudiziarie, i sodalizi locali hanno subito nel tempo la contaminazione di gruppi malabitosi provenienti da altri contesti territoriali, evolvendo verso forme organizzative spesso caratterizzate dalle connotazioni tipiche delle associazioni mafiose. Non di meno, nel territorio altamurano la criminalità organizzata ha subito una disarticolazione degli assetti organizzativi, conseguente all'incisiva azione di contrasto delle forze di polizia, soprattutto nei confronti degli esponenti di spicco che sono attualmente detenuti. Anche per questo motivo si è registrato un uso più frequente della violenza da parte degli elementi emergenti, i quali intendono in tal modo affermare il proprio predominio piuttosto che ricorrere ad intese di lungo periodo. La notte del 5 marzo scorso, nei pressi della vetrata esterna della sala giochi Bar Green, ubicata ad Altamura, si è verificata l'esplosione di un ordigno rudimentale verosimilmente confezionato con una notevole quantità di polvere pirica. La violenta deflagrazione ha provocato una fitta proiezione di schegge all'interno del locale che ha investito sette avventori, tutti di giovane età, seduti ad un tavolo di gioco, provocando il ferimento degli stessi, due dei quali, come già è stato ricordato dalla Onorevole, sono stati